Si chiama CryptoLocker, è un virus di ultima generazione e negli ultimi giorni sta mettendo in ginocchio alcune decine di aziende a retine. Le truffe, si sa, passano anche per il web, ma in questo caso il virus riesce ad insinuarsi all'interno del computer e criptare tutti i dati contenuti nel PC. Per far sì che i dati tornino ad essere leggibili, all'azienda è richiesto il pagamento di un vero e proprio riscatto. Il virus arriva tramite email, in quanto ad oggi non esiste un antivirus in grado di bloccarlo. Ed una volta aperta la posta, il virus riesce automaticamente a bloccare le funzionalità del PC e di tutti gli altri computer collegati allo stesso server. E da questo punto che i truffatori inviano alla vittima una seconda email chiedendo il riscatto, pari a 5 bitcoin, moneta virtuale ed irrintracciabile, pari a circa 1.500 euro. Le segnalazioni alla polizia postale di Arezzo negli ultimi giorni sono in continua crescita. Il numero delle aziende interessate si sta allargando infatti a macchia d'olio. La polizia postale raccomanda particolare attenzione riguardo all'apertura delle mail, consigliando di leggere solamente quelle ricevute da utenti conosciuti, altrimenti di aprirle in un PC non collegato al server, evitando così di infettare l'intera rete. L'altra raccomandazione è quella di non pagare assolutamente il riscatto, ma di chiamare un tecnico per ripristinare la funzionalità del o dei computer interessati. Ultimo consiglio, ma forse il più importante, è quello di eseguire backup costanti del contenuto dei computer.